In queste ore Emma Marrone è al centro di una vera e propria bufera per un paio di post pubblicati su Facebook e Instagram in cui, come tanti altri artisti e non, ha sollecitato a digitare il 45500 per donare 2 euro alla protezione civile impegnata in prima linea nella gestione dell'emergenza del terremoto ad Amatrici, Accumoli, Pescara del Tronto e altre zone del Reatino e dell'Ascolano. Prima un post in cui scrive 45500 l'unica cosa da digitare oggi, poi su Instagram lo screenshot di diversi SMS con tanto di risposta dell'avvenuta e certificata donazione. Tanto è bastato a far scattare gli haters della cantante Salentina che hanno demonizzato il suo comportamento accusandola di fare poco e addirittura di strumentalizzare la tragedia. Tra i commenti più atroci c'è chi scrive I fan della coach di Amici hanno difeso a spada tratta la loro beniamina. Una ragazza su Instagram ha scritto Infine la stessa Emma ha voluto chiudere la trista vicenda su Twitter attraverso un cinguettio in cui ha ribadito lo scopo più nobile delle sue azioni sui social. Sensibilizzare i propri fan a donare, ha detto, non è far scena, è fare qualcosa di utile, almeno oggi tacete con l'hashtag sciacalli della polemica.